Caffè al bancone del bar dal primo giugno si può e quanto stabilisce il nuovo decreto riapertura emanato dal governo a partire da questa data riapriranno al chiuso i ristoranti sia a pranzo che a cena e finalmente anche per i bar che fino ad ora si erano dovuti adeguare col servizio al tavolo anche per un semplice caffè qualcosa di positivo si muove. Soddisfatti i baristi che fino ad oggi non hanno potuto accontentare i clienti del caffè veloce ancora qualche giorno di attisa e poi tutto tornerà come prima. Finalmente almeno una cosa positiva. Adesso com'è andata la riapertura con il servizio al tavolo? Non mi lamento stiamo ritornando ai ritmi dell'anno scorso prima del lockdown del primo lockdown e siamo siamo contenti molto contenti. Era ora perché comunque servire tutti i clienti al tavolo anche la mattina per un caffè veloce entrano la gente comunque abituata a prenderlo veloce in Italia il caffè al banco e poi va a lavorare quindi già questa cosa che si potrà servire al banco è favolosa ed era ora. Cercheremo di mantenere comunque le distanze e quindi noi faremo i bravi però basta regole, basta coprifuoco, basta tutto. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato perché maggio è stato terribile, ha piovuto quasi tutti i giorni e quando non ha piovuto c'è stato il vento. Però dai guardiamo il futuro, pensiamo con positività. Speriamo anche per la riapertura alle 23 e poi andare avanti per poter svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile.